musica 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 bella raga oggi contiamo con i nostri video di mancraft insieme ad un altro episodio dei survival games ehm siamo in un'app holiday resort con un team con un certo dark human si allora uno via abbiamo detto di seguirmi perchè io sono troppo pro in questa magra e quindi fa più e dai apri questa cavolo di chest porca non ho preso un cavolo salmo lebon è in team con noi ma perchè sono cretino adesso sono andato pure dalla parte sbagliata anzi no va bene anche quello eh not bad xd xd allora 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 beh se rimane vivo tipo dopo quando siamo messi un po' un po' meglio eh diciamo quel dark eh z darkman mi sembra che si chiama eh diciamo è morto ah no dark human è morto poverino fa per ecco se non prendere le altre ceste un attimo prendiamo questo no ok tu lui prende quella basta allora tieni ok andiamo da questa parte arco ma si dai lasciamolo stare chi se ne frega eh non è una minaccia blu ray xd mi sto seguendo che cavolo vuole boh boh non mi fido magari è una spada cos'è così invece oh aspetta oh no qua non ce l'ho ben niente è vero eccole una ok ah non posso mettermi la maglietta eccola 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 corriamo 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 ah no lascia lascia in pietra lascia in pietra oh no è dietro di me scappa salmo lebon l'ho presa io accidenti andiamo in acqua andiamo in acqua andiamo in acqua andiamo a correre in acqua e dai sali sulla ok no dove è finito no che cos'è no 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 non romperti ok ok per fortuna lascia diamoci la chestplate e perchè calco f1 ecco abbiamo perso il nostro compagno vabbè mi spiace compagno compagno ok adesso chi è che fa di duro hm lui perchè ha più errato da sempre Luke Luke 1 2 3 4 5 1 2 1 5 2 what the fuck ecco una chest la e corri sprint oh nessuno ok possiamo usare l'arco vediamo anche l'arco messo nella posizione giusta cioè oddio oddio vabbè basta con doppi sensi lo avessi eh esatto e affianco alla mia ascia barra spada eh la la addirittura no ma poppo su serio c'è boh una chestplate anziché un elmo un pantalone che è inutile ma andiamo a prendere quella cesta poi ottimo abbiamo fatto un bel salto non c'è nessuno già aperta vil ecco ne uno ecco ne uno corri 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 corriamo corriamo dove è finito? no l'ho perso dove è finito? porca ma dove cavolo è finito? no l'ho perso eccolo dai che non ha niente dai che non armi corri 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 è una spada in legno chissà perchè non la usa perchè mi ha fatto troppo danno dai che lo dobbiamo killare per forza porca vai 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 in acqua please dov'è la barca? ok oh yes sai che sei fregato? no! ma perchè sono cretino ho l'arco però wow bellissimo ottima kill un diamante un diamante sapete perchè sono così contento? credo di no perchè se non siete stati attenti non lo sapete io ah ci sono anche due la avevo già un altro diamante oh yes mettiamo qua in acqua tutte le cose che non ci servono tre lingotti via ottimo oh cavolo che è che è che è che è da dove è che è? ah no sto affogando io oh cavolo mi è venuto un infarto Yuri lui deve fare team con me boh credo spero non lo so se solo che devo andare a farmi una spada in diamante ora porca corri devo correre a farmi una spada in diamante credo che mi voglia killare sì una spada oh cavolo sto mirando a lui ho finito le frecce porco dai 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 ok 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 mi stanno aiutando mi stanno aiutando anzi vuole... vuole killare l'altro, ecco Euri Italy è morto devo farmi la spada in diamante ora devo fare in fretta sta raccogliando il suo drogo intanto dai 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 ottimo diamonsword chissà dov'è 509 punti aveva azzi eccole là è andato dall'altra parte beh che ci possiamo provare è una spada non potente abbiamo un sacco di armor non dobbiamo fare oh cavolo no bravo perdi frecce ecco bravo bravo spingimi dietro spingimi di qua dai 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 non mi pare più spingere oh una barca dai che la dobbiamo aspettare sulla terraferma oh cavolo mi sta uccidendo mi sta uccidendo oh cavolo sono morto ma come cavolo ho fatto oh dio oh no vabbè mi aveva leggendevolito mi aveva leggendevolito non era il solo che aveva la spada in niente e comunque mi sembra strano che ne abbia tolto così tanto non è cheater ah salmo lebon eccolo questo come me ah ecco la spada in niente ecco l'altro che aveva e anche questi mi avrebbero ucciso si e a voglia a voglia guardate ora dire che sto laggando è dire poco ah la connessione no si stanno ricreando no accidenti ok cavolo frame drop di boh troppo infinito io no io no io no allora siete morti sapete oh yes siete un po' morti allora vi chillo vi chillo subito ah si proprio le minacce prepartite contaci le minacce prepartite muah muah si proprio dovete morire ok ma poco vabbè ok ah 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 si è te no dai niente e poi sbaglia anche a scrivere se vuole una sfortuna lì si muori tanto muori non ho bisogno della sfortuna io ho no porco niente ma vaffanmi andare vabbè andiamo da questa parte porco porco andiamo verso qua non c'è niente qua mi sembra sicuramente sicuramente saranno di altro tipo che mi seguono che mi vogliono killare ma non si ah non mi vedo nemmeno con un gg ah un italiano quello era un italiano è già morto xd è già morto no quello ho messo tanto di trappola quello qui dopo dopo la cesta credo che tipo ti partivo un circuito di redstone anche a quale era italiano djjhfgsh xd 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 sto aspettando di vedere tipo i nomi degli altri italiani tipo as dead as dead preferire vedere l'oro che il mio di nome però adesso sono drop ah sono le cose nere che toga le voglio anch'io no non le voglio si sono le cose d'inchiostro inchiostrate inchiostrose che non servono a niente dai ti ho bisogno di cibo di qualche cosa xd ah ok qua c'è una cesta ecco mamma mia la memoria raccogli tutto corri corri vai 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 mangia panino proprio mangia pane a tradimento no a tradimento no non c'è nemmeno nessuno qua ora non si vede l'occesso dall'alto andiamo piano con calma ecco che stiamo già perdendo vita per il dan dak dut il dan dak dut qua boh non la conosco questa zona non l'ho mai vista iiii un enchantment coso inutile adesso è un'altra ma non è l'italiano non so cos'è ah pesce ah le cose per stendere i pesci così per stendere i pesci esatto iiii sette posso romperli iiii magari tipo rompa i fermi iiii 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 piano di pesci quanto si può essere sceglie c'è sto zero testo c'è stato mamma mia oddio ok non me lo posso più riprendere ma tanto quel lingotto era inutile anche come questa come questo posto è inutile ecco qua me l'immaginavo vuota scorrazzare e corri da qualche parte il battello vapore xd c'è una cesta una spadina ottimo una spadina in legno ma addirittura le case no mamma mia c'è boh su serio xd posso mangiare quella torta lì non c'è un nome oh cavolo no scappa 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 pensavo non avesse niente mi lasci stare hai paura vero anche io avrei paura se fossi in te eh fai bene oh cavolo adesso mi seguirò non ce la farei mai a seguirmi dai facciamo il bagnetto molto lungo what the fuck sto andando dalla parte sbagliata andiamo nel battello dai che c'è una cesta la non sto andando dai tuoni dd gaming 99 hai al dito che dolore 1 1 eccola qua quello buono è andato via ma perchè 1 1 cano da pesca può essere utile per pesca no non è per pescare è per bellezza nemmeno per bellezza per mandare via i nemici vediamo se si può salire da qualche parte oh io voglio rompere una ragnatela oh da dove si sale boh vabbè andiamo in quella grotta no ci sono poche ceste dai torniamo a quella specie di villaggio casa pseudo qualcosa e cerchiamo ceste non lo so c'è qualcuno no nel obsidiana non c'è niente nell'obsidiana se liamo qua ma chi cavolo è oh cavolo non ho idea mi sembra ad andare vicino all'acqua corri 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 poniamo la canna da pesca dov'è dov'è e' finita oh cavolo che 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 c vabbè per oggi è tutto per ora e per oggi per domani vabbè ciao a tutti chissi di